ebrei e masoneria un caro amico di cui non faccio il nome per motivi di riservatezza e di delicatezza mi ha chiesto se ci sono dei collegamenti tra la masoneria e il mondo ebraico e poi mi ha detto che io dovrei parlare del fatto che mi chiamo di nome Serafino e come cognome Massoni ma io lo accontento subito questo mio caro amico perché ormai è dall'eternità che io vado ripetendo che la masoneria si fa all'arte dei muratori dei costruttori dei costruttori di case tant'è vero che Dio per i massoni è il sommo architetto lo sanno tutti questo lo sanno tutti e se torniamo a ritroso nel Tempio nel Tempio dobbiamo arrivare al Tempio di Re Solomone a Gerusalemme a ritroso nel Tempio nel Tempio e quindi il mio cognome Massoni si rinvia alla massoneria e la massoneria rinvia al Tempio al Tempio di Re Solomone cerca il mio nome Serafino cerca il mio nome Serafino e c'è da dire che il mio nome Serafino è un nome ebraico però non l'hanno inventato gli ebrei gli ebrei l'hanno solo modificato perché gli ebrei sono stati per un lungo periodo prigionieri, schiavi a Babilonia e durante la permanenza babilonese hanno visto che in Babilonia c'erano delle orribili divinità che si chiamavano Serafini queste orribili divinità che si chiamavano Serafini erano dei draghi dei draghi che sputavano il fuoco sputavano il fuoco per cui quando gli ebrei schiavi in Babilonia vennero liberati da Ciro il Grande re dei persiani fondatore della dinastia degli Achemenidi vennero liberati gli ebrei tornarono a Jerusalem e dissero che i Serafini i Serafini non erano dei demoni erano degli angeli ardenti 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 d'amore per Dio e c'è tutta la gerarchia angelica c'è una gerarchia di importanza degli angeli angeli arcangeli cherubini Serafini troni e dominazioni per cui io Massoni Serafino il mio cognome rinvia al tempio di Gerusalemme direi Salomoni il mio nome Serafino rinvia agli angeli che ardono d'amore per Dio beh poi stringendo 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 perché non vi voglio annoiare non vi voglio annoiare la massoneria è una emanazione è una emanazione degli illuminati degli illuminati e chi sono gli illuminati? beh circa chi sono gli illuminati? voi andate su Youtube andate sulla mia web tv on tema su Youtube e troverete il video intitolato gli illuminati andate andate a vedere e così saprete chi sono gli illuminati va bene? spero di aver esaudito le domande di questo mio carissimo amico capito che mi dice se ci sono dei rapporti tra la massoneria e il mondo ebraico e il mondo ebraico comunque comunque in ogni cosa del mondo ebraico si parla ovviamente in questa mia opera storico-mitologica capito? che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato va bene quindi morale della favola dulcesi in fundo tutti in libreria a comprare un'opera di questa appreggiata no una copia di questa appreggiata opera storico-mitologica ok a tutti tanti saluti da Serafino Massoni Serafino Massoni